Buongiorno, come state? Io sto veramente alla grande, l'arrivo della primavera mi sta regalando delle emozioni fortissime, questo sole bellissimo dopo un mese di pioggia è uno spettacolo vero e sono poi contenta perché ci sono talmente tante cose che stanno succedendo, tante attività, tante novità, qualcuna la sapete, qualcuna no, che mi sta mettendo un po'. In un mood frizzantino e per chi mi ha seguito nei video precedenti saprete che sono andata a fare l'intervista da Storytime e l'ho ricevuta nel mentre e come promesso ve la voglio far vedere perché in realtà è un'ottima occasione per ripresentarmi perché sento che ultimamente sono cambiata molto e a parte le cose che vi ho già raccontato questa intervista è stata veramente un'occasione per parlare di argomenti che magari normalmente ci parlo però un pochino più sparsi invece in questa occasione sono un po' più concentrati e avrete modo sia voi che mi seguite da tanto che le persone che sono qui da poco per conoscervi per conoscervi un pochino meglio e in realtà per questa cosa che mi vorrei un attimo ripresentare a voi ci ho riflettuto e ho realizzato che non so moltissimo di voi perché a parte le cose che posso sapere dai commenti di chi mi scrive che mi fa sempre molto piacere e dai e magari da qualche insight che posso vedere su youtube però non mi piace moltissimo andare in quella sezione lì perché mi piace pensare e sapere che dall'altra parte ci sono degli esseri umani che si mettono lì davanti a uno schermo con tutta la loro vita tutta la loro esperienza per vedere un po' cosa combino io da queste parti e allora mi sono detta che vorrei scoprire un po' di più di voi vorrei sapere da dove arrivi dove sei nato nata in che città hai scelto di vivere in questo specifico momento della tua vita e perché quindi tre cose queste cose mi incuriosiscono quindi vorrei sapere un po' di più un po' di più di voi ma proprio direttamente da voi da te che guardi piuttosto che da uno strumento che mi dice da dove guardano le persone che guardano i video perché quello è tutto un po' alleatorio e manca l'esperienza dell'essere umano e questo è quello che a me interessa di più voglio sapere che cosa ti appassiona quali sono le cose che ti muovono che tipo di essere umano sei perché questo è veramente per me uno strumento fortissimo uno strumento davvero di un potere incredibile per mettermi in contatto con persone che magari vivono dall'altra parte del mondo ma che parlano cioè ci devono unire almeno il linguaggio che comunque quindi parlate l'italiano però ho notato che ci sono anche delle persone che mi hanno scritto che guardano i miei video ma non parlano magari l'italiano e per questo mi ha incuriosito proprio voglio sapere di più di te che stai guardando in questo momento ovviamente oggi ho aperto la telecamera perché vorrei farvi vedere il video intervista e in realtà colgo l'occasione per riguardarla insieme a voi perché devo dire che subito dopo anche mentre facevo l'intervista mi ha lasciato proprio una sensazione bellissima e vorrei risentirmi a distanza di qualche giorno e capire un po' come è andata, cosa mancava, se c'è qualche cosa che posso integrare oggi se qualcosa non l'ho approfondito bene voglio appunto riguardarmi e capire di cosa ho parlato e di cos'altro posso parlare qui con te e oggi magari fare un altro Q&A nel prossimo video in cui sei tu direttamente a farmi qualche domanda quindi sono aperta anche a questo tipo di conversazione che in realtà mi piacerebbe molto fare perché quando ti vengono fatte delle domande da persone di cui sai poco è sempre un'occasione di scoperta incredibile e eviterò di dilungarmi troppo in chiacchiere via con l'intervista appassionati di storie e racconti ben trovati da Gianluca Ruoppolo nel salotto di Storytime quest'oggi avremo il piacere di poter chiacchierare con una content creator nonché attrice sto parlando di Veronica Zaharia ciao Veronica ben trovata ciao Gianluca come stai? molto bene bella sorridente infatti la nostra Veronica ci ha raggiunto nei nostri studi per raccontarci ovviamente la sua storia allora ci racconti un po' di te e di cosa ti occupi Veronica allora io sono attrice e content creator cosa faccio nello specifico? studio recitazione cinematografica da ormai tantissimi anni in uno studio di recitazione qui a Milano, studio Impact e creo contenuti per i social, per Instagram, TikTok, YouTube, per me e per altri quindi do una mano anche ad altre persone che non sanno da che parte girarsi ecco gli aiuto nella creazione ecco queste altre persone che aiuti sono sempre nell'ambito artistico o anche di altro? non solo artistico gestisco sia profili artistici che un pochino più professional tipo avvocati ci sono persone che hanno bisogno, si rendono conto della necessità di comunicare il proprio lavoro il proprio mestiere o costruirsi una figura online, un'immagine online però non hanno il tempo o i mezzi per farlo e allora entro in gioco io ragazzi c'è una bella notizia, c'è Veronica Zaria esatto avete risolto tutti i vostri problemi quasi quasi a me, tutti tutti proprio no Maria tutti tutti no va bene Veronica posso chiederti questa passione per la recitazione, per il mondo dell'arte c'è sempre stata o è una cosa che hai scoperto da poco? è una passione che ho da sempre da quando ero piccola quindi a scuola facevo parte a tutti gli spettacoli prendevo parte a tutto quello che poteva esserci e che implicava un palco però diciamo che non mi ero mai resa conto di volerlo fare professionalmente fino all'età di 15 o 16 anni e un bel giorno, mi ricordo ancora, me lo ricorderò per sempre mio padre mi guarda così dritto negli occhi e mi dice ma tu che cosa vuoi fare della tua vita? ok e ho detto io voglio recitare, voglio fare l'attrice e lui mi ha detto e allora perché non stai ancora facendo un corso, perché non stai studiando, perché non ti vedo impegnata in questo e mi sono attivata ed allora sto continuando a studiare e adesso sto preparando anche uno spettacolo che andrà in scena presto bene, puoi farci qualche spoiler rispetto a questo spettacolo, cioè uno spettacolo che sarà qui interpretato in Italia, giusto? sì sì, stiamo a Milano a Milano proprio a Milano in un teatro a precotto ok di più a breve sui miei profili social ok, tra poco li citeremo i profili ma intanto magari posso anche chiederti una cosa entro la fine dell'anno, entro l'estate? sì sì, in primavera in primavera, ah quindi ci siamo entro maggio entro maggio, quindi si tratta di qualcosa che avverrà tra poco sì allora intanto i social, vero.zaria è praticamente la pagina Instagram nome e cognome col punto in mezzo, quindi Veronica Zaria su TikTok e poi c'è anche il canale YouTube che è Veronica Zaria, giusto? esatto lì di volta in volta pubblichi i vari contenuti, appuntamenti che ti riguardano esatto, diciamo che Instagram è più la mia piattaforma palco ok quindi dove faccio vedere quello che sono le mie prove, le mie esercitazioni, i miei mini spettacoli fatti da me stessa, poi su TikTok ho iniziato a condividere i behind the scenes quindi dietro le quinte mi faccio prendere in giro perché tanto lo sai meglio di me che i blooper capitano, sono proprio all'ordine del giorno ok e su YouTube invece c'è più la mia vita così, unfiltered, proprio nuda e cruda senza filtri senza filtri, con tutta la sua verità e tutte le sue difficoltà e le parti belle ok tutto bene posso chiederti come sia arrivata a tutto ciò? Cioè una figura professionale come la tua che lavora nel mondo dell'arte e della recitazione bisogna prima fare un viaggio introspettivo dentro noi stessi prima di arrivare? ah ti dirò di più di questo, in realtà sì ma per me è arrivato dopo questo viaggio è stata l'arte a condurmi a questo viaggio l'ho fatto per diversi anni, sono sui social da diversi anni, prima un po' barcolavo nel buio io non sapevo bene come integrare la mia arte e la recitazione dentro i social e viceversa adesso ho trovato finalmente un equilibrio ed è stata appunto l'arte a portarmi a questa ricerca è stata questa la recitazione in primis, è un lavoro che sto facendo da 12 anni e che quindi mi ha portato a voler approfondire, a leggere diversi libri a entrare in contatto con persone che fanno questo mestiere o che non fanno il mestiere dell'attore però studiano il mestiere dell'attore ok ci sono tantissimi autori che scrivono appunto di ricerca per l'attore in questo momento sono molto appassionata dei libri di Maria Beatrice non so se hai visto ho sentito ecco è molto brava, è la mia guru in questo momento però ne ho letti tanti di libri e sento che in questo momento sto entrando in una dimensione un po' più avanzata rispetto a quella che ero prima però ci sono voluti 10 anni 10 anni di studio per arrivare a una consapevolezza più ampia di quello che sono di quello che è lo spazio che occupo nel mondo certo, più o meno da quando sei qui in Italia, 10-12 anni, quello intendi? sì, nel senso che da quando sono qui studio quello, esatto e adesso dopo più di 10 anni di studi posso dire so quello che è la mia figura cioè ho realizzato una consapevolezza di me stessa maggiore ecco ma l'arte in generale, la recitazione, il teatro aiuta a mettere un po' in discussione il tutto? tantissimo, tantissimo perché si pensa che la recitazione sia impersonare la vita di qualcun altro vivere tante vite diverse, scoprire mondi diversi dal tuo, sì, in parte ma è tanto togliere, è tanto mettersi a nudo e entrare sempre più in contatto con quello che siamo noi per mettere a disposizione dell'arte il te più nudo, più puro e senza sovrastrutture che sono quelle che acquisiamo in realtà negli anni, da quando siamo bambini nel percorso di crescita acquisiamo tante di quelle strutture che ci allontanano da quello che è la nostra vera essenza e invece la recitazione è proprio questo, è imparare a mettere a disposizione dell'arte e del mondo se stessi chiaro, ecco, dato che tu ci lavori anche tanto con i social, che idea ti sei fatta? cerchi di staccare la vita reale da quella dei social o cerchi di fare un mix? è un mix, è un mix perché a me piace tanto giocare con i doppi sensi ok con le verità velate o quelle verità che non sono proprio apparenti quelle verità che non sono immediate ma che puoi intuire oppure quei video o quei contenuti dove tu puoi farti un'idea che è la tua, sempre personale sì ma se ci fossero 100 persone nella stessa stanza ognuna potrebbe farsi un'idea diversa perché dipende dalla chiave di lettura che tu dai quindi ci metto molto di mio perché di base ci sono quei momenti in cui dici oh mio dio che cosa faccio oggi, cosa filmo oggi e mi aiuta sempre tornare in me stessa e dire ok, quali sono le sfide che devo affrontare oggi, questa settimana, questo mese cosa sta succedendo nella mia vita e prendo da lì lo spunto e lo sviluppo in poi quelli che sono i miei video perfetto, allora ricordiamo ancora una volta quindi seguitela sui social se vi va vero.zaria, zaria, chiedo scusa, su instagram veronica.zaria su tiktok e veronica.zaria su youtube se volete contattarla per eventuali collaborazioni lavorative c'è anche un indirizzo mail che è veronica.zaria.icloud.com giusto? esatto in chiusura, ecco, alla luce del tuo racconto Veronica è importante fare quello che si vuole no? questo dice la tua storia esatto, è fondamentale io stessa in questo periodo sto affrontando un cambio importante nella mia vita e ne sto parlando su tutti i miei social perché quello che ho notato è che c'è questa tendenza di nascondere la fatica che uno deve fare per raggiungere i propri obiettivi e vedi all'improvviso persone che sembrano essere diventate qualcuno in una notte ma non è così c'è tanto lavoro come dicevo ci vogliono dieci anni, te la lancio così, dieci anni per diventare bravo in un mestiere qualsiasi però ti ci deve impegnare quindi se tu vuoi fare un determinato stile di vita o lavoro ti ci deve impegnare, devi dedicarci del tempo e fare otto ore al giorno quella cosa lì altrimenti non puoi fare una cosa totalmente diversa che non è quella che vuoi fare e sperare che mentre le tue passioni diventino la tua realtà perché se non riempi la tua realtà di quello che ti piace fare o delle cose che ti piace vivere non saranno mai la la tua realtà non lo diventeranno mai l'esempio l'ultimo promesso sono anche i social i social in questo momento sto notando che tanti tante persone esprimono negatività rispetto a quello che sono i social perché dicono sono diseducativi o che mandano messaggi superficiali superflui vabbè dipende da quello che segui però esatto è questo che voglio dire i social non sono altro che lo specchio della realtà della società e quindi se tu vuoi vivere un certo tipo di vita e avere un certo tipo di realtà devi costruire la tua realtà in quell'ottica lì anche i social funzionano così quindi se tu vuoi vedere un certo tipo di cose devi focalizzare la tua attenzione verso quel tipo di cose allenare l'algoritmo e la tua realtà online su quelle che sono le tue preferenze sono perfettamente d'accordo è quello che diciamo noi tutti i giorni ci si lamenta secondo me per senza nulla perché se magari quella cosa vedi che non fa per te non la seguire perché magari ti porta fuori strada esatto e poi voglio aggiungere anche vai al volo non sempre le cose che ci sembrano brutte e negative sono inutili a totalmente noi a volte mettersi a confronto con qualche cosa di totalmente lontano da noi è uno spunto di crescita di di arricchimento e di entrare in contatto con una realtà totalmente diversa bene quindi uscite dalla vostra zona comfort così come ha fatto veronica zaria content creator nonché attrice veronica un saluto e alla prossima grazie grazie mille a te ciao story time evoluzione radio wow sì è proprio lo specchio di quella che sono in questo momento perché non è che mi ricordavo a memoria ogni risposta ma è proprio in linea con quello che sento provo e vivo in questo periodo nella mia vita per cui se mi chiedessi adesso di dire tre cose in chiusura di questo video ti direi che come sotturi le tue giornate è fondamentale per cui assicurati di fare quante più cose possibili in una giornata che siano quelle che ti arricchiscono ti fanno star bene ti fanno vivere un'esistenza più bella circondati delle persone che vivono sulle tue stesse vibrazioni che ti possono elevare e tre ribaltiamo tutto esponiti a cose scomode ad attività lontane da te a persone lontane da te che vanno magari anche contro i tuoi pensieri e il tuo modo di pensare il tuo modo di vedere perché al massimo possono confermarti che la tua strada è quella giusta oppure ribaltare completamente la tua esistenza o ancora meglio aprirti uno spiraglio o uno sguardo su un mondo totalmente diverso che potrà sempre e in ogni caso arricchire la tua esperienza è tutto per oggi è tutto per questo video noi ci vediamo nel prossimo video ma fino ad allora mi raccomando come sempre prendetevi cura di voi ciao